Sabato sera al Teatro Masini di Faenza saliranno sul palco i classici greci a portare in scena la letteratura, la poesia greca, saranno gli studenti dei licei classici di Ravenna, Faenza e Lugo grazie al progetto nazionale Classici Contro nato dieci anni fa all'Università Ca' Foscari di Venezia. I giovani alunni della quarta B del liceo classico Dante Alighieri di Ravenna porteranno in scena il Giamballa Sbarra, il liceo Torricelli Ballardini di Faenza presenterà Antigone dalla luce del mio sepolcro canto e i colleghi lughesi metteranno in scena lo spettacolo I Volti di Elena. Grazie al lavoro realizzato dagli alunni e agli interventi di scrittori e docenti la serata sarà dedicata a una riflessione pubblica su Diche, la giustizia. È un progetto estremamente interessante ideato da due professori universitari Camerotto e Pontani della Ca' Foscari dell'Università di Venezia che coinvolge l'Associazione Italiana Cultura Classica AICC e in particolar modo quest'anno la nostra sessione il Manara Valgimigli per l'appunto e assieme a questa associazione anche il Dipartimento dei Beni Culturali. In sintesi il progetto è molto significativo. Il tentativo veramente appassionato e appassionante di questi professori è stato quello di portare fuori dall'università, dall'accademia, dalla polvere, diciamo così, degli istituti e delle accademie, tutto ciò che ha a che fare col mondo classico, per far sì che diventi qualcosa di contemporaneo, che si confronti con i nuclei tematici della contemporaneità. Quest'anno in particolar modo la parola chiave è la parola Diche, cioè giustizia, il senso e il significato della giustizia. E dunque il tentativo è proprio quello di lavorare su queste parole della classicità che legame possono avere all'interno del mondo contemporaneo. E abbiamo coinvolto le scuole. Noi sono una professoressa del liceo classico Dante Alighieri, assieme al professor Godoli, che poi è l'ideatore di questa bellissima rappresentazione che i ragazzi andranno a fare a Faenza. È la prima volta in Romagna, in particolar modo nelle nostre città, che c'è questa sorta di unità tra i tre licei, il Ballardini di Faenza, il Curbasso di Lugo e ovviamente, sono molto orgogliosa, il nostro liceo classico Dante Alighieri. Che cosa porterete in scena al Masini? In pratica porteremo uno spettacolo che è un processo giuridico basato appunto su dei poeti greci. Ci saranno dei poeti che verranno processati, questi poeti chiamati giambici, appunto perché scrivono delle poesie troppo violente e per questo verrà fatto un processo simpatico e comunque parodizzato rivolto a questi poeti. Come vi siete preparati per questa rappresentazione? Innanzitutto avevamo già portato in scena questo spettacolo a gennaio, alla notte nazionale del liceo classico. Ultimamente abbiamo fatto delle prove con il nostro prof di Greco qui a scuola a pomeriggio e sabato prima di andare in scena proveremo sul palco per controllare gli spazi e durante tutte le prove ci sono sempre stati dati dei consigli per cercare di eseguire questo lavoro al meglio. Professore, com'è nata questa idea? Ma avevamo pensato di dedicare appunto il nostro intervento alla poesia cercando di trovare i riferimenti poetici alla giustizia. Poi un nostro alunno, Edordo Errani, ha avuto l'idea di mettere a confronto un poeta giambico come Iponatte con Solone. A questo punto l'idea si è ampliata, si è stesa, abbiamo lasciato da parte un po' Solone e abbiamo esteso il confronto tra la poesia giambica, che è la poesia più violenta, aggressiva, talora anche volgare, e le poesie istituzionali, classiche, che corrisponde alla legia, alla dirica monodica e alla dirica corale. Abbiamo cercato così di intervenire utilizzando varie fonti che ci sono giunte dall'antichità, anche alcune leggendarie e poco attendibili, però tutto in un certo senso poteva essere utile per rappresentare in maniera abbastanza umoristica appunto queste figure che le testimonianze antiche ci presentano come dotate di tutti i visti possibili, anche perché loro stessi si prendevano abbastanza in giro da questo punto di vista. Un progetto sicuramente interessante, questo di Classici Contro, ce ne sono altri che state seguendo a scuola? Beh sì, in questo momento anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro stiamo seguendo lo Scrittura Festival organizzato da Matteo Cavezzali, che è un festival di letteratura che si svolge a Ravenna e a Lugo, nell'ambito del quale ci si svolgono numerosi incontri con autori sia italiani che stranieri che presentano i loro libri e noi partecipiamo a questo festival in diversi ruoli, organizziamo le interviste, ci occupiamo delle riprese video, del materiale fotografico, della gestione del sito web, quindi sì, è un progetto interessante e ampio che ci permette anche di lavorare con metodi diversi da quelli che utilizziamo di solito a scuola. Grazie. Grazie.